Prima di sbarcare a Salerno, riabbracciare la città e i parenti che magari non vedevano dal lockdown dei primi di marzo, si sono sottoposti ai controlli disposti dalla nuova ordinanza della regione campana in materia di prevenzione e gestione dell'epidemia da Covid-19. Da stamattina sono possibili gli spostamenti in tutta Italia, ma i passeggeri provenienti da fuori regione devono essere monitorati con il controllo della temperatura ed eventualmente, nel caso la stessa superi i 37 gradi e mezzo a test rapido da Covid-19 ed eventuale tampone, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il provvedimento emanato dalla regione campania. Alla stazione di Salerno c'erano gli operatori della Croce Rossa, le forze di polizia, la Polfer, la protezione ambientale ed anche i militari dell'esercito. Stamattina i controlli non hanno reso necessario per fortuna i tamponi che sarebbero stati di pertinenza dell'ASL. Mediamente una trentina i passeggeri che scendevano di volta in volta con i treni ad alta velocità da fuori regione. Le procedure di controllo sono state abbastanza rapide grazie alla professionalità del personale e alla disponibilità dei passeggeri. Qualcuno si è detto sorpreso, qualche altro ha puntato l'indice sull'eccesso di sicurezza in campania, ma tutti sono stati collaborativi. Ho fatto il primo controllo per l'appunto, io sono sceso la prima volta, prima del 3 giugno, perché sono minorenne e sono coaffidato, quindi mio padre è a Roma, mia madre è a Milano e ho potuto viaggiare per questo motivo. Mi hanno controllato a Milano, mi hanno fatto un rapido controllo i militari con il termometro, hanno visto che non avevo la febbre e siamo passati, c'era anche una fila abbastanza corta. Il secondo controllo l'ho fatto per l'appunto oggi, venendo da Roma verso qui, Salerno, in cui c'era direttamente lo scanner che appena passi un metro di distanza ti misura la febbre. All'arrivo sì, solo a Salerno ti misurano anche all'arrivo, quindi mi hanno chiesto la carta di identità, hanno fatto dei rapidi controlli, mi hanno chiesto il numero di telefono e mi hanno fatto passare. Ci sentiamo un po' tipo ex comunitarie che vengono, anzi forse se li fanno a loro dei controlli un po' più così, però mi sembra un buon eccesso. Nel momento in cui diciamo che abbiamo un po' più un pugno di ferro, forse in Campania, a differenza di altre zone. Come si è svolto? No, per me è tranquillo perché vengo a trovare i parenti che ormai erano... esatto, aspettavamo con ansia questo giorno e il primo treno via. Salerno è una cosa bellissima, tre mesi, nemmeno per i congiunti fuori regione, guarda, è una cosa spettacolare. Per chi ha fatto i controlli già in ufficio, chi va a lavorare tutti i giorni per temperatura, temperatura a Roma prima del treno, comunque temperatura, cioè mi sembra... comunque tracciati, con carta freccia e quant'altro, cioè mi sembra proprio di stare... forse è qui un po' troppo, a Roma invece è stata veloce. Sì, 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 sì.